Giuseppe Di Rosa, oggi la presentazione delle liste parte ufficialmente la campagna elettorale, ormai pochi giorni al voto, cosa c'è da fare per convincere gli agrigentini a votare Giuseppe Di Rosa? Votare Giuseppe Di Rosa significa votare il nuovo, sicuramente in questi miei tre anni di politica attiva ho mostrato il vero volto di come bisogna fare politica agrigento stando in mezzo all'agenda e non guardando nessuno in faccia. C'è da dire che purtroppo il vecchio ci ha distrutti perché la gestione del PRG, la gestione dell'acqua pubblica, la gestione della raccolta dei rifiuti purtroppo oggi portano alle casse comunali un deficit immenso. Io sto lavorando assieme ai miei esperti sul bilancio e su tante altre materie che possono aiutare questa città. Votare Di Rosa oggi significa votare il nuovo perché a mostrare stamattina le prime nomine degli assessori degli altri sindaci, a differenza di quelli miei, immediatamente salta all'occhio della gente che a partire dalla giunta del candidato Firetto che ha svendolato di essere lui promotore di liste civiche da deputato salta all'occhio che c'è già un tassello del deputato e del nostro ministro Alfano. Perché nascondersi dietro queste cose? I miei assessori sono tutte persone del mondo civile, sono tutte persone slegate dai vecchi poteri. Questo è la politica che ha bisogno la nostra città. In 30 anni questa gente oggi si ripropone e si ripropone tutta in un agglomerato unico. In 30 anni hanno mostrato il peggio che ci potevano dare. Oggi io direi che è il momento di cambiare. La mia lista si chiama proprio cambiamento, è un appello che io rivolgo ai nostri cittadini. Giuseppe Di Rosa è quello che vedono. Giuseppe Di Rosa non ha assolutamente nessuno alle spalle. Giuseppe Di Rosa è partito e arriverà solo ed esclusivamente con l'apporto della città, della gente comune, dei cittadini che amano agrigendo. Ha bisogno la nostra città di liberarsi delle vecchie zavorre. Le vecchie zavorre sono i deputati. Le vecchie zavorre stamattina nei corridoi per la presentazione delle liste ho rivisto ancora una volta i vecchi agglomerati politici. Basta, è il momento di dire basta e la città deve capire che il tutto va gestito in maniera limpida e trasparente. Basta con il PRG fatto a camicia per gli amici, basta con la gestione dell'acqua pubblica in questa maniera. Bisogna tornare a parlare delle tariffe perché non sono io colui il quale ha il parente, l'amico, il cognato che lavora a Girgenti Acque o il parente, l'amico o altri che abbiamo inserito in pianta organica quando nella raccolta dei rifiuti in una città come Licata hanno 60 soli addette al servizio e ad agrigendone abbiamo 170 e utilizziamo questa agenda e col prossimo bando, a giorni farò una conferenza stampa doc, col prossimo bando rischieremmo di mandare a casa circa 40 unità ed invece si promette alle persone, ci sono alcuni miei colleghi che promettono le assunzioni. È il momento di dire basta, la gente deve capire che c'è da mettere un punto e ripartire.